SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG dedicato agli sport outdoor di montagna. Quest'oggi parleremo di sci alpinismo e di trail running. Focalizzeremo l'attenzione sugli italiani top class andati in scena sulle nevi dell'Alpago. Parleremo della gara valtellinese Scarizza de Foca. Per poi focalizzare l'attenzione sul successo annunciato dell'Ultra Ibericus. Due giorni di grande sci alpinismo sulle nevi bellunese di Alpago con la Transcavallo 2014. Gara andata in scena nella giornata di sabato sotto una fitta nevicata e domenica, nella prova valevole per l'italiano top class con una bella giornata di sole. A vincere i tricolori 2014 sono stati gli alpini Robert Antonioli e Manfred Reichheger, mentre nella gara femminile successo annunciato per le intramontabili. Francesca Martinelli e Roberta Pedransini, titolo master per gli inossidabili o Prandi Nicolini. Una gara davvero bella, quella dell'Alpago, andata in scena su un tracciato che prevedeva 2100 metri di dislivello positivo spalmati su ben 5 salite. Sul podio di giornata, ovvero quello di domenica, sono saliti anche Damiano Lenzi e Matteo Idalin, sempre anche loro del CS Esercito di Courmayeur, e l'inedica coppia composta da Michele Boscacci e Davide Galizzi. Al femminile, secondo posto per Martina Valmassoi e Laura Vesseghini, terzo posto per Birgit Stufer, al via insieme a Diana Di Ascola. Ma sentiamo i commenti dei due vincitori, ovvero di Robert Antonioli e Manfred Reichheger. Una gara molto combattuta oggi con Idalin e Lenzi, direi tracciato molto tecnico, anche se non abbiamo la cima del Guslon, direi che è stata un'ottima scelta del tracciato. Fino alla quarta salita eravamo lì con la coppia Idalin e Lenzi, poi loro hanno avuto qualche problemino verso la fine, e ci siamo portati poi nell'ultima salita, nell'ultima discesa, abbiamo poi portato la vittoria a casa. Una medaglia d'oro che vale, però peccato non averla combattuta fino alla fine, insieme agli altri due portacolori dell'esercito, Idalin e Lenzi, che oggi hanno dato veramente anche loro l'anima, come l'abbiamo data io e Manni. Peccato non averla conclusa fino alla fine, senza intoppi tecnici. Correndo sulle nevi di casa, un saluto era d'obbligo, anche per Martina Malmassoi, una ragazza che sia con la divisa azzurra della nazionale, sia con quella di club, sta facendo davvero bene. Ieri ho patito tanto in discesa, perché io quando non ci vedo sono proprio, diciamo, scendo esatto, però non scio. È stata dura, fortunatamente non c'era freddo, quindi solo il vento che ogni tanto, poi noi fisichini, leggeri, siamo un po' penalizzati, ma insomma, bello. Alla fine quest'inverno è andato così, abbiamo fatto la maggior parte delle gare col brutto tempo, un po' ci stiamo abituando. Speriamo che adesso con la primavera arrivino anche giornate migliori. Giovani sci alpinisti azzurri in evidenza in Alta Valtellina nella gara Scarizza De Foca, la competizione non federale proposta dall'Alforba in stretta partnership con lo sci club Alta Valtellina. Location d'eccezione Santa Caterina Valfurba, un nuovo tracciato ancora più bello, ancora più spettacolare, ancora più tecnico, un tracciato che ha esaltato, letteralmente esaltato, Pietro Canclini, questo giovane atleta dello sci club Alta Valtellina, questo figlio d'arte dello sci alpinismo italiano, che ha vinto sul ex nazionale di biathlon Mattia Cola e sull'inossidabile Paolo Moriondo. Al femminile invece Sara Barretto si è imposta su Mirian Clerici e Mara Pozzi. Questa competizione era valevole anche per la combinata con la verticale notturna 1000 metri alla rocca. Ad aggiudicarsi questa speciale classifica sono state Walter Trentin e Sara Barretto. Dicevamo giovani azzurri in evidenza, infatti piazzamenti degni di nota anche nella gara giovanissimi, dove Giulia Compagnoni, Erika Rodigari, Giulia Murada e Niccolò Canclini hanno saputo confermare quanto di buono si sta dicendo sul loro conto. Come al solito diamo uno sguardo al mondo delle corse, al mondo delle corse podistiche, parlando quest'oggi dell'Ultrebericus Trail, una gara giunta alla sua quarta edizione, una gara che entra in scena sabato 15 marzo. Sono 1000 gli atleti accreditati in astri di partenza con una lista di attesa che verrà chiusa al primo marzo, una lista di attesa che vedrà premiato i più pazienti che sapranno quindi approfittare di eventuali ritiri. Ai nastri di partenza quest'anno sono previste anche 60-70 coppie miste che corrigeranno la gara a staffetta. Dietro le quinte l'Ultrabieri Custima SD che, come al solito, è garanzia di qualità. Per questo fine settimana è prevista la due giorni di Coppa del Mondo a Diablerè sulle nevi svizzere. Gli aggiornamenti e tutto quello che c'è da sapere sulle gare di cialpinismo le troverete sul sito. Per quanto ci riguarda, anche quest'oggi è tutti, veloci i cambi e giù a bomba e discesa! SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.